450 pacchetti di sigarette e sigari, oltre a 170 confezioni di tabacco trinciato, per un totale di oltre 11 kg di tabacco lavorato. Sono stati sequestrati dalle fiamme gialle in un esercizio commerciale di Vittoria, sito nel pressi del mercato ortofrutticolo, che li vendeva senza autorizzazione. L'attività era già finita nel mirino degli inquirenti lo scorso febbraio. In quell'occasione i militari avevano non solo sospeso la licenza di vendita di tabacco, ma anche conteggiato e sottratto le sigarette in giacenza, per poi assegnarle ad un'altra rivendita autorizzata. Tuttavia, nonostante l'assenza dei titoli autorizzativi, i gestori dell'esercizio sono riusciti a procurarsi ulteriori quantitativi di tabacco lavorati e a venderli. L'esercizio commerciale rischia ora la chiusura dell'attività da un minimo di 5 ad un massimo di 30 giorni.